0-0 in questo match fra sezione H e sezione G Match iniziato da poco, 1-0 in realtà Gol di Avolio in rovesciata alla Florenzi Vediamo tanti prestiti fra le sezioni H Ancora Armando Avolio nel cerchio di centro campo Prova a uscire bene il Fenderico Poi Quaratino, prova ad andare in progressione Ancora Quaratino Quaratino prova ad eludere Cananzi Se ne va Quaratino, Cananzi con il fisico Riesce a guadagnare anche un'ottima rimessa laterale Andrà a finirlo, l'ha battuta Ancora Cananzi Prova ad andare Avolio con il fisico Poi D'Ambrosio, palla in verticale Il colpo di test di Quaratino Guida la palla per Tortora Prova ad andare ancora Tortora C'è Deriso, sono in mezzo Tortora, palla in mezzo C'è Deriso, Deriso La parata clamorosa di Rubino E ci saluta Bortone Va Fenderico con il destro in verticale Palla troppo corta Interviene Tamai La palla è buona per Bortone Quaratino in verticale Cerca di Luciani Mangoni spazza senza troppi complimenti Ancora Rubino La palla per D'Ambrosio che vada rimessa Ancora la palla per Guida Alzate la testa Guida ancora Cananzi Palla a terra C'è Avolio Potrebbe fare i partiti Quando vedete per i suoi Ancora Avolio Rientra la sterzata Bene in verticale C'è Deriso Rientra in fase difensiva Ancora Deriso Attacca Morde le caviglie D'Ambrosio Fallo in attacco Rimessa dunque per la sezione H Andrà Rubino a lungo rilancio Prova ad andare in guida Prova ancora una in verticale Avolio Non c'è che c'è il centro campo Prova a far viaggiare Deriso Ancora Deriso Prova a cambiare gioco Per la corrente Tortura Che la stop ha controllato Non felicissimo per lui Palla che termina fuori Rubino La palla per guida Guida la sterzata Palla ancora buona per Quaratino Ancora Fenderico Intercetta Cananzi Ancora Cananzi Prova a servire Deriso Ottima la chiusura Però di guida Seguiamo l'ultima azione Per interrompere il nostro collegamento Ancora Fenderico Buono Palla per Tortura Progressione In regola del vantaggio Tortura Investicare A servire Deriso Potrebbe rimetterla in mezzo Lo fa Palla in mezzo La chiusura Dipende Rico Seguiamo l'ultimo calcio D'angolo Prima di interrompere il collegamento Andrà Tortura Alla battuta del corner Tortura Palla bassa Intercetta guida Poi Bortone Può partire il contropiede Invece la passano l'avversario Ancora Cananzi Serve ancora Tortura Potrebbe crossare Ancora Tortura Il cross A cercare Deriso Che non è propriamente una torre 1-0 Interrompiamo qui il nostro collegamento